e bella a tutti ragazzi questo video pazzesco invito subito lasciate un mi piace iscrivete canale mi raccomando lasciate like e soprattutto gruppo compravendita primo link invio consigli giornalieri e guide giornalieri e guide sulla compravendita di fifa 23 se volete entrare da cinocchiata perché ci sono si sono liberati dei posti in offerta ad un prezzo limitato quindi posti limitati se volete darci un'occhiata molto interessante video compravendita questo su un metodo molto incredibile ma per iniziare anche scaricate l'applicazione numero 10 secondo link applicazione sportiva incredibile scaricata dal link mi raccomando allora ragazzi oggi siamo qua per un metodo di compravendita che viene diretto almeno per quanto mi riguarda che viene anche usato nel gruppo che lo uso anche nel gruppo della compravendita dando appunto dei nomi di giocatori c'è una sorta di lista che ho fatto adesso non sbaglio nel gruppo che riporta questi giocatori che do spesso nei consigli giornalieri perché sono giornaliere consigli giornalieri sì consigli giornalieri perché sono carte che hanno diciamo un grafico dei prezzi che va su e giù e vi faccio vedere subito siamo sempre su foodbin questo tamendi versione non raro e come potete vedere abbiamo un grafico lo accorciamo perché tanto non ci interessa di vedere ottobre facciamo da dicembre ha un grafico potete vedere su e giù 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 allora i prezzi che ci sono qua ragazzi sono prezzi medi quindi se qua c'è scritto 693 vuol dire che la carta è arrivata anche tranquillamente a 800 viceversa se c'è scritto che so 450 vuol dire che la carta si trovava anche a 400 ad oggi costa mille è in un momento particolare comunque siamo appena dopo i toti dove i prezzi erano veramente le stelle tramite per colpa di sbc eccetera eccetera quindi non è il momento giusto per comprarli ma è un metodo vi do almeno facciamo che vi do un quasi dici una decina più o meno una decina di nomi di giocatori che secondo me sono molto validi per questo metodo ovviamente quando comprare questi giocatori qua utilizzate foodbin per vedere se il loro prezzo è migliore queste carte qua vanno prese secondo me minimo c'è massimo scusate massimo massimo a 500 caletti massimo e rivenduti tutti su da cerchiamo da 750 800 in su dipende dalla carta dipende dal momento ok quindi potete vedere aumenta anche a 1500 vabbè questo è stato un caso particolare generalmente comunque va su 800 900 anche 1000 ottamenti secondo me è una carta molto buona perché viene argentino benfica quindi comunque una squadra che comunque può uscire nelle incontri principali eccetera eccetera queste carte sono molto utili per incontri principali quindi è una carta assolutamente consigliata anche lui ovviamente cercate di prenderlo a massimo 400 massimo 400 450 massimo massimo 500 assolutamente una buona carta prossima carta è il buon mario guzzi anche lui non raro come potete vedere osservate che sono tutte carte non rare questo invece ha come potete vedere ha un grafico un pochino diverso ma anche lui ha degli aumenti che arriva a dei picchi da quasi 900 crediti si vende tramite overpriced selling ho già messo il metodo nel mio gruppo compra vendita che se volete entrare mi raccomando primo link in bio ma anche nel ho diciamo ho fatto un acceno di overpriced selling nel mio canale quindi andate a vedere magari un video adesso mi ricordo il nome ma se lo cercate lo trovate non è molto recente come video allora questi punto sono i grafici anche lui una carta potete vedere ha un diminuzione è un aumento di prezzo quando si possono trovare queste carte generalmente si trovano durante i premi è molto più facile durante il weekend perché escono tante carte nel mercato quindi normale che i prezzi scendano quindi io personalmente li comprei da venerdì a domenica personalmente forse i giorni migliori anche domenica barra lunedì mattina magari paredes paredes un'altra carta assolutamente consigliata anche lui come potete vedere ha un po' differente forse un po' meno rispetto agli altri però anche lui va dai 400 fino agli 800 quindi carta molto interessante anche lui argentino juventus quindi serie a assolutamente consigliato non raro perché non raro voi direte perché tutti i non rari perché i non rari sono più rari dei dei rari sembra brutto da dire così però ragazzi i non rari sono più rari dei non rari troverete di più nel fateci caso nei vostri pacchetti trovate più carte rare che non rare quindi generalmente nei premi soprattutto troviamo più carte rare e carte non rari ne troviamo poche rispetto a carte rare e troviamo anche molti doppioni nelle carte rare quindi non sono più così rare le carte rare sembra ma non è così cruise cruise anche lui carta che secondo me quasi tutti fifa è ottima per la compra medita perché a pochi crediti ovviamente questo metodo ragazzi è riferito perché a pochi crediti non usate questi metodi se vedete che ne so un milione e mezzo da investire non ha senso lui veramente a prezzi minimi storici proprio 400 di media vuol dire che proprio si trovava fa un po più fatica a salire questo magari avendolo a 700 750 ancora meglio però fa un po fatica ecco fa un po fatica chris smalling ragazzi anche lui assolutamente un'anzitità buona campionato buono non sale enormemente ma secondo me comunque una carta che può avere i suoi picchi come potete vedere ha un picco qua di 900 quasi insomma ha i suoi picchi sale un po meno rispetto altre carte però è molto utile grifo grifo ragazzi anche lui carta incredibile per questo tipo di compra vendita anche lui fa un po fatica come chris smalling però come potete vedere va dai 500 bar a 400 trovate che 400 450 assolutamente consiglio di prendere tramite sniping a 450 ma se provate in certe ore in certi orari si prendono anche ad asta al prezzo minimo altra carta che vi consiglio assolutamente è il buon romagnoli lui secondo me cresce tanto invece perché essendo italiano secondo me ha più cioè essendo italiano campionato italiano può essere molto utile Lazio comunque può essere anche una squadra che esce abbastanza negli incontri principali può capitare che esca il mio consiglio ovviamente è venderlo tramite overpriced selling vi ricordo che i metodi le guide le trovate nel mio nel mio gruppo compramento a primo link in bio ma se volete vi do un piccolo consiglio cercate di comprarne non troppe di copie cioè di queste carte prendete che ne so 5 romagnoli e vendeteli che ne so 1 a 700 1 a 900 1 a 800 cercate di differenziare i prezzi non vendete tutte le carte a 800 è più difficile venderle ok ultima carta che vi consiglio secondo me forse il migliore questi sono 14 giorni ma facciamo più mesi guardate qua questa secondo me è la migliore perché perde veramente poco di prezzo rimane sempre abbastanza alto di prezzo ginter poi comunque ginta e poi comunque un 82 quindi è una carta comunque abbastanza utile anche per per overall niente ragazzi assolutamente consigliata come tutte le altre carte che vi ho consigliato per questo metodo esclusivo mi raccomando se volete entrare nel gruppo compramento primo link in bio mi raccomando ciao ciao